Nella puntata precedente... Ti sei scopato la mia ragazza. Bastardo! Altre volte, Valerio. Dico, prima di farlo con Mattia. Un caffè all'insangue. Vedi, però non può capitare in fondo di perdere staff. È stato con Gianna. Avete saputo cosa è successo a Mattia? No, cosa? L'hanno restato a sangue, è finito in ospedale. Avete saputo Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. No, aspetta. Credi che il suo incidente? Sì. E forse è stata tutta colpa mia. Dai, su, non farei la paranoica. No, non faccio la paranoica. È un presentimento. E se fosse stato... Forza, ragazzi, forza, 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 forza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sì, Sì, Sì Grazie a tutti.